bene signori e signori siamo qui in questa demo di chi vuole essere milionario primo episodio con la gallus production andiamo nel show televisivo italiano quello condotto dal nostro amico jerry scotti e andiamo subito a giocare in giocatore singolo normale l'altro personaggio noi oggi saremo george ha 42 anni è un infermiere e ama le arti antiche andiamo a giocare arriveremo a milione questa sera lo scopriremo ragazzi state incollati allo schermo e cominciamo questa partita ovviamente qui per questo è il copyright non c'è la faccia di jerry scotti ma l'improperazione delle domande è arrivare al milione good evening everyone and good evening to the audience especially i hope you'll bring me good luck are you ready to miss ho saltato ragazzi perché veramente andiamo allora good luck con la prima domanda secondo voi dai questo è facile lascia il nuovo praticamente tutti è la D no more hesitating I'm gonna say D e poi avete la risposta giusta quindi abbiamo guadagnato signori di 200 euro andiamo con la seconda domanda e ovviamente è anche questa è giusta ragazzi come hai risposto più andiamo avanti più ammettere su questa primi 1000 euro guadagnati andiamo con la terza domanda beh dai però è abbastanza facile anche questa domanda ovviamente in alto abbiamo il tempo per rispondere e però questa ragazzi è abbastanza facile non prendiamo tempo perché gli altri pensi sono troppo lontani cioè anche il sole è lontano da noi però per la luna è sempre più vicina rispetto a noi quindi la risposta è il sole e ovviamente abbiamo guadagnato anche i nostri primi 1500 euro andiamo avanti è un dodge che si usa per carnevale ragazzi vi dico quindi è molto facile è la lettera B qui come potete vedere sulla destra abbiamo la vario scalata e i vari aiuti andiamo subito sulla risposta che è esatta ovviamente e abbiamo guadagnato anche i nostri primi 2000 euro direi questo io non gioco molto a scacchi mi prenderete se non l'indovino e invece la mia memoria non mi inganna diciamo a 3000 euro signori andiamo io sono indeciso tra due quindi direi di disegnare il nostro primo aiuto della serata andiamo sul 50 e 50 ok ok la mia era sul 100 e su 50 decisione quindi sono fondamentalmente sicuro che la risposta sia 50 e infatti era così e siamo a 5000 euro così senza fare nulla siamo arrivati ai 5000 euro sapete cosa vi dico che mi mancano un po' che io ora si minora la risucare circa con coso con Jerry Scott ma andiamo su uno questa vi pare che sia in Giappone in Krakatoa se non sbaglio ed è uno anche dei vulcani più pericolosi la devi informare e invece no era in indonesia signori abbiamo perso ah no vanno dire così però almeno abbiamo un assegno garantito dai non male abbiamo 3000 euro buttiamoli via questo è un video di attenzione ma se fossimo veramente io devo essere milionari 3000 euro questi venti soprattutto con il covid non sono l'ora buttare via io vi aspetto una prossima puntata di giocando con con Galvus alla prossima signori della Galvus production è tutto che attivarai sono stati qui con me ciao aaaaaaaa aaaaaaa Grazie a tutti.